Dove fu costruito il Colosseo? Forse non tutti sanno che il Colosseo fu costruito dove prima vi era un lago, il lago artificiale della casa, della casetta di Nerone, la Domus Aurea. Tito Flavio Vespasiano decise di prosciugare il lago artificiale che era stato costruito da Nerone e la sua regia per dar spazio al Colosseo, all'Anfiteatro Flavio, che tutti conoscono come Colosseo. Il nome deriva dalla statua di Nerone e tutti chiamavano Colosso per le sue dimensioni enormi che succeda nei prezzi del Colosseo. Ciao, al prossimo video, vi aspetto! Ciao! Ciao! Ciao!